Domenica in sta subendo un forte calo con la conduzione delle sorelle parodi, Benedetta lascia il programma furiosa, ecco cosa è accaduto. Il ritorno in televisione delle sorelle parodi, Cristina e Benedetta, al timone del programma domenicale Domenica in, non ha riscosso molti successi. Il grosso flap di Domenica e nelle possibili conseguenze sulla conduzione i risultati sono sempre stati alquanto deprimenti, soprattutto, se paragonati a quelli ottenuti dal programma antagonista in onda sempre allo stesso orario ma sulla rete televisiva opposta, ovvero Domenica Live condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Nel corso della precedente domenica il programma Domenica in è riuscito, infatti, ad ottenere solamente il 14,4% di Sharen nonostante la mancata messa in onda di Domenica Live. Questi risultati stanno scoraggiando molto i vertici dell'azienda e le stesse conduttrici, stando a quanto emerso dal settimanale, chi diretto da Alfonso Signorini, pare che una delle conduttrici sia pronta a dire addio al programma, la parodi in questione è Benedetta. La conduttrice di Bache of Pare, infatti, che abbandonerà la conduzione di Domenica in, ma vediamo quali sono i motivi e la reazione della protagonista Benedetta Parodi lascerà la conduzione di Domenica in, ecco le ipotesi di questa decisione e le motivazioni celate dietro questa decisione estrema sono molteplici. Quella più gettonata al momento risiede nei troppi impegni lavorativi di Benedetta con i suoi programmi di cucina che, a quanto pare, sembra le stiano portando via sempre più tempo e la stiano spingendo a dover fare delle rinunce. Ma non so, nel corso di Cristina Parodi restano solo alle dini di Domenica, cosa accadrà? Ci sia anche una soffa di me, Benedetta Parodi. Grazie.